Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video In questo video vi volevo dire che non potrò fare le live Cioè, ho fatto una live e non c'è nessuno Proprio non mi arriva la notifica del che faccio la live Quando mi arrivavano le live di qualcun altro mi arrivava la suoneria Ma voi no? Ma voi no, non vi succedeva che vi arriva la notifica Quindi non potrò fare più le live L'ho sbloccato la parte per fare le live per niente Io faccio per voi i video E voi dovete essere presenti Tipo, o sei iscritti, questi sei iscritti mi dovrebbero scrivere, dovrebbero commentare Non ho che commenta uno solo, due soli e gli altri proprio non scrivono Dovrei chiudere il canale Oppure dovrei continuare a fare i video e nient'altro Perché un canale è per stare tutti insieme, per scommentare e fare le live che tutti fossero presenti Ma invece no Quindi cercate di dedicare un po' di tempo a youtube per quando ti fanno i video tipo miei O per gli altri youtuber Infatti sono voluto diventare youtuber Perché ho visto gli altri youtuber, fate di youtuber, fate di divertente Ma non è proprio divertente come pensavo Perché sono sola Non ho neanche uno che mi scrive Anzi ne ho solo uno, ogni tanto mi scrive Sotto nei commenti vanno due, vanno tre, vanno quattro Quindi non posso continuare a fare i video se non ho perso gli iscritti che commentano Devo pensare se chiudere il canale o no Quindi non posso continuare a fare i video